Ricominciano i corsi di Arte per Te! Questa è Arte per Te! Arte per Te! Ciao a tutti e bentrovati sul canale! Come state? L'estate volge al termine, malgrado io mi stia liquefacendo dal caldo, ma dobbiamo ricominciare con i corsi. Abbiamo preso le nostre vacanze, ci siamo goduti, spero tutti, un'estate calda, affosa, strana dal punto di vista climatico, è giunto il momento di ritornare alla normalità. E quale normalità migliore se non la normalità creativa che vi offre Arte per Te! e ombrettina vostra? Quest'anno grandi novità per quanto concerne i corsi di Arte per Te! Perché si sono moltiplicati molte più discipline a vostra disposizione. Cominceranno tra settembre e ottobre ben 5 barra 6 corsi, ora vi spiego perché il barra 6 corsi, e ve li vado ad elencare. Inizierà il corso di disegno, durata quinquennale, 5 anni di corso, si comincia dal livello 0, super principianti, e mano a mano si va avanti insieme. Costo del corso, 150 euro l'iscrizione, e poi tutti gli anni saranno gratuiti, non dovrete pagare più nulla per far parte del corso di Arte per Te! Il corso di Arte per Te! si sviluppa per metodologie in crescita, cioè vi prendo bambini, puelli, e vi faccio crescere piano piano, indirizzandovi verso il giusto metodo di osservazione e di riporto dell'immagine su un supporto cartaceo, e chiedo ai miei tanti studenti del corso di Arte per Te! di lasciare i feedback qui sotto il video per spiegare e rinvogliare i nuovi ragazzi che fossero così in dubbio sull'efficacia o meno del corso. Il corso quindi si sviluppa con il primo anno in cui vi insegnerò proprio a regolarvi con i chiari e con gli scuri per poi crescere mano a mano e portarvi a un grado di autosufficienza e buon disegno che sia veramente importante. Vi basterà guardare gli album dei compiti del corso di disegno di Arte per Te! degli anni precedenti per rendervi conto del progresso inequivocabile che tutti i corsisti fanno seguendo questo corso. È un corso bellissimo che vi dà le basi del disegno, della pittura, di tutto quello che è necessario per l'arte figurativa perché vi sviluppa soprattutto l'osservazione reale ed efficace del mondo che vi circonda. Il corso di disegno si terrà ogni giovedì alle 20.30, gli altri anni erano alle 21.00 quest'anno anticipiamo di mezz'ora, siamo alle 20.30 e durante questo spaccato che dura circa un'ora ma io sono sempre molto elastica con gli orari, se c'è da abbondare abbondo senza fermarmi ai minuti o alle ore sono stata ben più di due ore certe volte in collegamento con voi pur avendo detto che la lezione dura un'ora quindi durante la lezione io vi spiegherò i cardini su cui poggiare le fasi di disegnato quindi tutto l'impianto teorico, parlerò degli errori in corsi nei compiti precedenti e quindi come superare i gap che avete trovato nei compiti precedenti e mi esporrete quelli che sono stati i vostri problemi a cui io cercherò insieme a voi di dare una soluzione efficace quindi assegnerò un compito che dovrete ripostare in una data X che indicherò assegnerò il compito su un album creato appositamente su Facebook quindi per partecipare al corso di disegno dovrete avere come social sia Facebook che YouTube necessario, non si può fare il corso se non si ha Facebook ma oramai Facebook lo hanno tutti e anche se non aveste un profilo potreste crearvelo ad hoc anche se non ha il vostro nome ma ha un nickname di fantasia e lo usate semplicemente per il corso a me va bene lo stesso insomma e può essere utile anche per voi poi naturalmente l'importante è che quando postate il disegno sulla pagina di Arte per Temi indicate l'anno di appartenenza e il vostro nome e cognome con cui vi siete iscritti al corso di disegno ma comunque non ci preoccupiamo di questo sarà tutto più chiaro perché vi spiegherò tutto per filo e per segno durante la prima lezione che si terrà il 21 settembre alle ore 20 e 30 quindi sbrigatevi ad iscriversi corso di iscrizione 150 euro contattatemi tra i messaggi privati su Facebook e ditemi ombretta sono interessata a partecipare al corso di disegno e sarete ricontattati vi diremo tutte le modalità per il pagamento anzi mi correggo non sono 150 euro ma quest'anno sono 152 euro per la marca da bollo per avere poi voi la ricevuta contattatemi sulla pagina Facebook di Arte per Te tramite i messaggi privati tramite Messenger e verrete ricontattati vi verranno poi date tutte le indicazioni per filo e per segno sia per quanto riguarda le modalità proprio burocratiche di iscrizione che per quanto concerne il materiale da avere che è il minimo indispensabile ve lo anticipo anche sono le matite gamma B una gomma pane una gomma siliconica un buon tempera matite un buon album ruvido e un album liscio per cominciare ci basta solo questo le matite di gamma B devono essere la 2B la 4B la 6B la 8B e basta così comunque vi verrà fornita la lista completa per tutti gli anni di corso al momento dell'iscrizione il corso vi ricordo comincia il 21 settembre alle ore 20 e 30 qui sul canale YouTube Arte per Te le iscrizioni si chiuderanno il 20 settembre quindi avete poco meno di un mese per correre ad iscrivervi secondo corso riparte anche il corso di tecniche pittoriche che ha avuto un grande grande successo l'anno scorso l'ho inaugurato l'anno scorso a gennaio ed è stato accolto con molto divertimento e molta leggerezza da parte di tutti noi anche da me che l'ho messo in atto è stato un corso veramente edificante per molti e per me in prima persona perché abbiamo affrontato le diverse tecniche artistiche dall'acquerello alla tempera, all'acrilica, alla tempera gouache alla tempera naturale, i pastelli, i pastelli a cera, i pastelli ad olio, l'olio abbiamo toccato un po' tutte le tecniche questo è il corso per chi non sa quale sia la sua tecnica preferita per scoprirle naturalmente è un corso a livello principianti perché io lavoro con voi e nello spazio della diretta il tempo che ho non mi consente di fare lavori grossi ma comunque sono lavori doviziosi che hanno un inizio e una fine sono lavori impegnativi e vi permettono di conoscere a fondo la tecnica che state utilizzando è un corso veramente divertente leggiadro direi che vi mette proprio a tu per tu con le diverse materie dell'arte e vi mette anche a tu per tu con la vostra differenziata pazienza nell'affrontare ognuna di queste tecniche è un modo per scoprire l'arte a tutto tondo per capirla anche se non vorrete diventare degli artisti per capire la differenza di esecuzione per esempio tra un acquerello, un acrilico una pittura d'olio e capirne quindi anche i contesti di messaggio cosa si può trasferire tramite una tecnica piuttosto che con un'altra capirne anche il valore intrinseco insomma è un corso che nella sua leggiadria è un corso molto culturale di apertura mentale di conoscenza massima che io consiglio veramente molto a chi dell'arte è un amante ma non sa bene orientarsi all'interno di questo mondo da molta consapevolezza come corso devo dire e anche molto molto divertimento anche qui dico ai corsisti dell'anno scorso se per favore sotto i commenti possono lasciare un feedback della loro esperienza in modo da far capire a chi volesse iscriversi quello che apporta la frequenza di un corso di tecniche pittoriche dico anche ai ragazzi che hanno frequentato l'anno scorso se vi va di fare un altro anno fatelo pure perché il corso sarà diverso affronteremo altre tre altre tecniche molte di più e soprattutto quelle trattate le ritratteremo in maniera via via differente di conseguenza potrebbe essere un ulteriore arricchimento del percorso già portato avanti l'anno scorso il corso ha la durata di un anno il costo è di 150 euro e vi aspetto contattatemi sempre su facebook tramite messaggi privati per avere tutte le notizie il corso comincia il 12 ottobre il 12 10 ma le iscrizioni si chiudono ugualmente il 20 di settembre il 12 10 comincia il corso sempre qui su youtube e le iscrizioni si chiudono il 20 di settembre il corso di tecniche pittoriche è un po' in chiaro è per lo più in privato diciamo che io faccio un'infarinatura della lezione che andrò a sviluppare con i ragazzi in chiaro quindi in modo che possano vederlo tutti anche i non iscritti mentre poi il vero laboratorio di tecniche pittoriche lì dove andiamo a sporcarci le mani e dove andiamo a divertirci con i colori sarà in forma assolutamente privata soltanto dedicato agli iscritti anche per questo bisogna avere sia facebook che youtube necessariamente anche questo corso costa 150 euro ma se voleste iscrivervi al corso di disegno e al corso di tecniche pittoriche o al corso di disegno o a due corsi di quelli che vado ad elencare invece che 300 euro avrete un pacchetto bicorso che costa soltanto 250 euro e dico soltanto perché sono corsi a livello alto come didattica che lasciano veramente molto ad un costo veramente irrisorio non sono dei corsi preconfezionati con dei video standard da guardare e recepire io sono qui live a spiegarvi passo passo quelle che sono le cose che dovete modificare insomma mi avete a vostra disposizione e di conseguenza è un corso che ha un costo veramente basso per ciò che offre veramente basso per ciò che offre ve lo posso garantire poi parte uno dei miei corsi preferiti questo sarà un gioiellino che quest'anno coltiverò con grande grande cura anche gli altri ma questo si radica proprio nella mia anima da ex docente e infatti parte il corso di arte a cui ho voluto dare un nome molto particolare interpretazione critica restauro e riconoscimento degli stili questi sono gli argomenti che toccheremo quindi l'interpretazione delle opere con esercizi live che voi dovrete fare insieme a me per imparare ad interpretare le opere d'arte tanto che si conosca l'autore quanto che non lo si conosca cioè prendere dalla figuratività quelli che sono gli elementi essenziali per capirne l'essenza quindi la critica andare a portare una valutazione personale imparare a formularsi un'idea e a raccontarla agli altri un'idea congura su quell'opera d'arte quindi impareremo elementi fondamentali del restauro quelli che sono gli elementi con cui si può andare a intervenire per la salvaguardia delle opere d'arte capire qual è il buon restauro il distinguo tra il restauro all'europea all'italiana e il restauro all'americana poi ne parleremo ampiamente è un discorso affascinantissimo e non ultimo faremo una passeggiata tra gli stili soprattutto gli stili relativamente all'arte e al mobilio in modo da distinguere in maniera colta quelli che sono via via gli stili che si avvicendano non soltanto architettonicamente ma anche proprio gli stili che viviamo nelle case quando andiamo cioè andare a casa di un amico e dire bella questa servanna napoleonica piuttosto che barocca piuttosto che ottocentesca dirlo con cognizione di causa e capire anche come distinguere un mobile nuovo da un mobile vecchio questo è un corso molto articolato il fatto di farlo partire abbastanza presto mi darà la possibilità di spiegarvi quanto più posso su questo mondo dell'arte da fruire come cultori dare proprio quella cultura artistica alle persone sono corsi totalmente teorici non c'è pratica in questi corsi se non una pratica mentale una pratica di esercizio mentale all'osservazione e all'esposizione di ciò che si vede per capire cosa si vede ma saranno delle vere e proprie discussioni colte su un argomento che ci circonda costantemente come l'arte che molto spesso noi non ci accorgiamo di avere tutto attorno e finalmente potremo capire la realtà in cui siamo calati contestualizzarci in un luogo capire se è un luogo pieno di fascino di mistero di storia e comprenderne quella storia questo è un corso bellissimo perché vi dà la consapevolezza dell'arte anche se non sapete disegnare anche se non riuscite a tenere una matita in mano questo è un modo di arte per te e mio di abbracciarvi portarvi dentro per farvi comunque apprezzare l'arte se non da creatori da fruitori sapere cosa comprare sapere cosa si ha a casa sapere cosa è di valore cosa per cui vale la pena spendere e cosa no andare ad un museo e avere non più quell'impaccio di sentirsi un pesce fuor d'acqua ma andarci con la sicurezza di chi pur non conoscendo magari nulla di quell'autore contemporaneo sa prendere spunti citazioni rimandi perché capisce l'arte ecco questo è quello a cui ambisco durante quest'anno darvi questa padronanza del mondo artistico che vi lasci qualcosa di estremamente culturale quindi questo corso costerà anche 150 euro abbinato ad un altro corso di arte per te il costo sarà di 250 per due corsi anziché che 300 e comincerà sarà sempre di giovedì alle 16 vi ho detto l'ora del corso di tecniche pittoriche allora il corso di tecniche pittoriche scusate se faccio un remind del corso di prima è giovedì alle ore 10 e 30 quello di arte invece questa di arte teorica critica d'arte interpretazione stile restauro sarà invece sempre il giovedì ma alle 16 e la lezione avrà la durata di un'ora dico sempre che le lezioni hanno durata di un'ora ma anche qui come per il corso di tecniche pittoriche anche l'anno scorso il corso di tecniche pittoriche è durato un'ora non stavamo collegati in meno di due ore due ore e mezzo quindi è possibile anche che io sfori da quell'ora ma se non potete continuare a seguire non vi preoccupate perché i corsi rimangono comunque tutto qua parlo di tutti i corsi comunque su youtube e quindi voi che siete iscritti avrete i link per accedere in qualunque momento e riguardarvi 10 100 mille volte il video che vi interessa relativamente al corso che avrete scelto il corso di arte comincia il 5 ottobre alle 16 qui su youtube ma le iscrizioni si chiuderanno sempre il 20 settembre quindi accorrete numerosi per ampliare la vostra cultura nel mondo dell'arte un corso che mi avete chiesto in tanti comincia anche il corso di acquerello per principianti il corso per acquerello per principianti sarà un corso molto allegro leggero divertente un corso molto anche romantico un corso che definirei sognante per come l'ho immaginato sarà ogni mercoledì alle 10 e 30 del mattino e comincia il 27 settembre mercoledì 27 settembre alle 10 e mezza anche per questo corso scrivetemi in privato sulla pagina facebook di arte per te e vi verranno date tutte le delucidazioni per i materiali da avere è un corso fresco quello di acquerello sarà un corso molto giovane fresco dinamico ecco mi piace proprio un corso di sperimentazione ma anche di meditazione un corso di conoscenza e di controllo della materia perché l'acquerello ha bisogno di molto controllo molti pensano che l'acquerello sia una tecnica molto semplice in realtà è una delle più difficili e quindi la andremo a scoprire insieme e cercheremo di fare via via dei lavori sempre più belli quindi vi aspetto dal 27 settembre alle 10.30 qui su youtube per il corso di acquerello che non sarà in chiaro sarà semplicemente per gli iscritti con link privato che vi verrà mandato poi vi spiego come noi creiamo delle chat con i nostri iscritti a cui mandiamo i link per accedere al contenuto che viene trasmesso qui su youtube quindi è molto semplice e non si può perdere il corso perché vi arriva l'appuntamento sta per cominciare il corso via live link voi pigiate e trovate me da questo lato che lavoro insieme a voi andiamo con l'ultimo dei corsi canonici cioè quelli che durano da settembre ottobre diciamo fino a giugno l'ultimo corso ma non per importanza è il corso di pittura ad olio un corso che anche questo mi avete chiesto in tantissimi ora vediamo chi saranno i bravi che si iscriveranno anche questo corso come il corso di arte come il corso di tecniche pittoriche come il corso di disegno ha un costo di 150 euro abbinato a un altro corso non saranno 300 ma saranno 250 e verrà effettuato ogni mercoledì alle 16 e inizierà il 28 di settembre gli argomenti che svilupperemo durante questo corso saranno la natura morta principalmente e gli incarnati per ora vi dico questo poi se riusciremo a fare altro con i tempi durante dipenderà da voi ragazzi potremo anche andare avanti e svilupparti e fare magari anche i paesaggi quindi andare oltre quelle che sono i limiti didattici che mi sono prefissata idealmente mi sono fatta un'idea di quanto ci staremo a finire due quadri per intero e penso che più di quelli in un anno non riusciremo a fare se siete dei principianti anche perché questi sono corsi che partono proprio da zero quindi dalla preparazione della tela sono comunque corsi fatti ad un livello accademico quindi un livello universitario perché io ho insegnato per più di 15 anni in un'accademia di belle arti e quindi il mio sapere il mio esporre didatticamente si rifà a quell'esperienza e di conseguenza avremo un approccio molto importante a queste materie non ci sarà nulla di facile ma sarà tanto arricchimento personale perché partecipare a un corso di arte per te perché quel sogno che hai lasciato nel cassetto quella cosa che non ti sei concessa quando eri ragazza perché l'ha vista come dispersiva lontana dal mondo del lavoro perché era vista come un superfluo ora che si è più grandi possiamo riaprire quel cassetto e riprendere quella passione che abbiamo abbandonato da troppo tempo ritagliarsi un po' di tempo per se stessi per riflettere per uscire dalla quotidianità per ritrovare il bello in qualcosa di estetico anche quando la vita fuori non è poi così estetica creare una community far parte di una community che abbia i nostri stessi interessi con cui sentirsi capiti con cui interfacciarsi scambiare opinioni essere comunque un tutt'uno si creano delle vere e proprie famiglie di artisti che vanno avanti si aiutano si collaborano nei corsi di arte per te non esiste la critica non esiste il dito puntato guarda che hai fatto esiste lo spronarsi ad andare avanti assieme vi ricordo sempre che sono corsi che partono dal livello principiante per tutti quindi tutti abbiamo da imparare nessuno ha da fare il maestrino io nella mia didattica non mi pongo mai come la maestra che sa e che con Manu Long interviene sui vostri lavori ma anzi mi auguro sempre che troviate una vostra strada autonoma pur restandovi a fianco e quando uscite un po' dal seminato dare quel colpetto che vi riporta sulla giusta via per andare verso la meta bene questi sono tutti i corsi che ho ideato per quest'anno ora ve ne citerò uno che ha bisogno però della vostra attenzione è un corso un po' più di nicchia un po' più prezioso di tutti gli altri infatti sarà tenuto il venerdì il venerdì alle ore 10 ed è il corso di iconografia è un corso che durerà di meno degli altri parte venerdì 20 ottobre 2023 e si conclude a Natale la settimana prima di Natale perché è un corso durante il quale faremo un'icona dedicata alla Sacra Famiglia o alla Natività in cui faremo insieme un'icona sarà un corso un po' diverso dagli altri perché faremo passo passo insieme un'icona un'icona non è un dipinto un'icona è una preghiera per chi ci crede è uno stato di meditazione quindi il tenore del corso sarà del tutto diverso non sarà un corso assolutamente divertito divertente dinamico ma ve lo dico perché così si scrivano soltanto gli interessati sarà un corso molto metodico molto concentrato sarà un corso molto meditativo sarà un corso molto lento ma al contempo veloce perché tipico della lavorazione dell'icona l'andare con una calma interiore ad una frenesia motoria che è quella della posizione della pittura dell'adoratura quindi un corso quasi ascetico direi è unirsi insieme nel progetto comune di scrivere un'icona è veramente un'ora di ritaglio del nostro tempo dal mondo fuori di noi e dedicarci invece al dentro noi direi che è un corso quasi terapeutico è un corso che vi aiuterà tantissimo a trovare la calma a trovare la rilassatezza a trovare proprio il centro per questo l'ho messo proprio nel periodo prefestivo perché è un corso che ci può veramente aiutare a veicolarci verso il Natale anche questo è un corso di 150 euro pur durando soltanto due mesi e qualcosa perché è un corso di valore cioè voi imparate a fare un manufatto di valore dopodiché le icone che avrete imparato a fare potrete venderle a un prezzo sostenuto un'icona scritta a mano secondo i giusti requisiti non si vende a meno di 300 euro di conseguenza già vendendo l'icona che avete fatto al corso vi siete recuperati il corso stesso è un modo per unire l'arte alla persona in maniera molto intima e alla parte terapeutica di cura che abbiamo verso la nostra persona è un corso fatto di gesti lenti bellissimo bellissimo che metto a vostra disposizione spero di raggiungere un minimo per poter partire anche con questo corso vi aspetto numerosi tutti i corsi di arte per te sono privati tranne il corso di tecniche pittoriche che ha una prima fase su youtube libera di conseguenza ne perderete la traccia durante l'anno io farò qualche remind in qualche video magari dove tratto l'acquerello però più di quello non vedrete nulla se non vi parteciperete il corso di disegno invece continua ad avere la sua formula aperta per tutti perché tanto la correzione del disegno passo passo punto punto la farò soltanto agli iscritti e il corso rimane open come è sempre stato qualcuno di voi mi chiederà ma come mai il corso di disegno che dura 5 anni costa 150 euro e il corso di tecniche pittoriche e gli altri corsi che durano di meno costano anche 150 euro è molto semplice perché nel corso di disegno io ho cura di 5 anni di corso quindi una settimana la dedico al primo una settimana la dedico al secondo una settimana la dedico al terzo una settimana la dedico al quarto e al quinto di conseguenza gli appuntamenti settimanali pro capite sono molto meno sono uno si può dire quasi al mese rispetto agli altri corsi che invece vede i corsisti seguiti ogni settimana tutti quindi sto molto di più con voi che quello che faccio con voi in un anno lo faccio con loro in 5 anni quindi i corsi si equiparano e anche perché il corso di disegno è un corso che ha la presunzione di portarvi a un livello da disegnatore bravo gli altri corsi hanno invece lo scopo di farvi conoscere la tecnica di farvi impratichire nella tecnica in modo da avere l'incipit per poter poi proseguire in qualcosa di più intenso anche autonomamente cioè darvi tutti i caposaldi della tecnica per poter poi partire come giusto per esempio in pittura autonomamente verso un vostro costrutto naturalmente anche con un approfondimento culturale che sarà necessario ma di questo ve ne parlerò durante il corso bene che dire vi aspetto numerosi per le iscrizioni ragazzi vi aspetto per tutte le informazioni cercate la pagina facebook di arte per te quindi contattatemi con i messaggi scrivetemi sono tizia tizia vorrei partecipare al corso di vorrei partecipare ai corsi di ok quindi in generale se si partecipa a più corsi se ne paga uno 150 e gli altri si pagano 100 quindi voleste partecipare a tre corsi la vedo dura ma voleste partecipare a tre corsi non paghereste 450 euro ma paghereste 350 mentre se volete partecipare a un solo costo e a un solo corso il costo è quello altra cosa a ogni prezzo che ho detto dovrete aggiungere 2 euro per la marca da bollo perché quest'anno andrà anche la marca da bollo affissa sulle ricevute che poi appunto riceverete bene è tutto io mi auguro di avervi numerosi ai corsi di arte per te ho dedicato proprio largo largo tempo a tutti voi e ai corsi sto puntando molto sul canale su di voi sulla formazione online ci sto credendo mi avete dato la possibilità di crederci grazie ai grandi miglioramenti che hanno avuto gli amici che hanno partecipato ai miei corsi che mi dicono essere felici soddisfatti e mi hanno incoraggiato proprio ad aprire ampliare la didattica di questi corsi vi aspetto numerosi non perdete l'occasione di regalarvi un momento per voi di regalarvi un momento di vostra cultura per qualsiasi delucidazione mi trovate su facebook o lasciate un commento qua sotto se è una domanda generale se invece una domanda personale particolare relativa all'iscrizione vi conviene scrivermela tra i messaggi privati sulla pagina facebook di arte per te bene io spero di ricevere tante iscrizioni significherà che il mio lavoro qui su youtube su facebook e su tutti i social sta lasciando tanti piccoli segnetti sulle vostre anime tante piccole incisioni bellissime ornate sulle vostre anime vi aspetto tutti numerosi e pronti con matite super affilate per iniziare il nostro anno in piena creatività da ombretta e da arte per te è tutto vi aspetto al prossimo video creativo ciao ciao